A BALLARI 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 Buongiorno a tutti i nostri amici 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 Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti i nostri amici Buongiorno a tutti i nostri amici Buongiorno a tutti i nostri amici Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.